Slitta ancora l'assegnazione degli alloggi popolari di Largo Martiri di Via Fania, Ribera. L'OIACP di Agrigento ha chiesto ulteriori dieci giorni di tempo per definire l'elenco degli assegnatari, quello dei proprietari è già pronto da tempo. E quanto è emerso dall'incontro che il sindaco Matteo Ruvo l'ha avuto ieri con i vertici dell'Istituto Case Popolari? La cosa fondamentale che ho chiesto e che aspetto è che l'OIACP mi metta nero su bianco per quanto riguarda gli assegnatari l'elenco di tutti gli aventi diritto, cosa che aveva mandato a novembre in maniera parziale, ho sollecitato perché sono state presentate dagli aventi diritto ulteriori documentazioni che vi venga notificato l'elenco finale perché è sulla base di quell'elenco che la Commissione da me nominata il 13 gennaio scorso dovrà procedere alla effettiva assegnazione degli alloggi individuando i singoli alloggi per ogni nucleo familiare che ne avrà diritto. Erano presenti i due commissari, il dottore Costanzo e l'architetto Maltese, l'architetto Mameli che è il direttore generale e il dirigente, il funzionario direttivo dottoressa Alfano, i quali mi hanno rassicurato dicendo che poco prima, qualche giorno prima delle festività pasquali o immediatamente dopo notificheranno al Comune l'elenco definitivo ed ufficiale che il Comune utilizzerà, che io girerò immediatamente alla Commissione nominata perché possa immediatamente dopo passare all'assegnazione effettiva. Non è solo la questione dell'assegnazione formale degli alloggi, il cantiere è ancora aperto, si stanno completando gli allacci ma poi ci dovrà essere anche il collaudo. Per quanto riguarda gli allacci, loro hanno sollecitato, oggi ancora oggi in cantiere mi è stato riferito che c'era l'impresa incaricata dall'Enel per fare gli allacci. Per quanto riguarda il collaudo mi dicevano che sarà una cosa veloce, per quanto riguarda la consegna del cantiere, non appena finiranno questi allacci loro lo faranno. Ho richiesto e sono tornato a chiedere che venga fatta a spese degli ACP la recinzione del campetto che hanno realizzato nei pressi del parco giochi, ma in ogni caso ho anche comunicato loro ufficialmente che io non aspetterò la definizione di queste ultime cose opere per completare definitivamente tutto il cantiere, ma nel momento in cui mi manderanno la nota ufficiale, perché si sono riservati ulteriori 8-10 giorni per approfondire alcuni casi, hanno bisogno di questi ulteriori 10 giorni per fare un'ulteriore verifica per alcuni casi particolari che avevano delle criticità al loro modo di vedere e quindi ho sollecitato che mi venga immediatamente notificata questa nota così da trasferirla alla commissione e finalmente, ma ripeto, non c'entra nulla il sindaco, non c'entra nulla il comune, perché noi abbiamo istruito così come era di nostra competenza le pratiche degli ex proprietari e sono tutte a posto, ho sollecitato diverse volte, continuamente con diverse riunioni, con una conferenza di servizi, l'OIACP a definire una volta per tutte la vicenda degli assegnatari, sembrava tutto ok, oggi si sono riservati ulteriori 8-10 giorni per questa verifica di alcuni casi particolari.